coronavirus 161 nuovi positivi in regione ma carano i tamponi 28 a pesaro urbino progetto nuovo ospedale presidio a muraglia contro il blocco imposto dalla regione chiusura centri commerciali a valle foglie incontro con i titolari dell'attività lo sport weekend di vittorie per ital service carpegno prosciutto basket e vis pesaro una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con rossini news il telegiornale di rossini tv subito in apertura gli aggiornamenti riguardanti l'emergenza corvi 19 sul nostro territorio perché il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1239 tamponi 633 nel percorso nuove diagnosi e 606 nel percorso guariti tamponi in calo quindi come ogni domenica i positivi sono 161 nel percorso nuove diagnosi e di questi 28 casi provengono dalla provincia di pesaro e urbino e ora parliamo del presidio che ha avuto luogo sabato pomeriggio all'ospedale di muraglia per dire no alla decisione intrapresa dalla nuova giunta regionale di bloccare il progetto di realizzazione del nuovo ospedale una mobilitazione lanciata anche dal sindaco di pesaro matteo ricci e che come annunciato proprio da quest'ultimo continuerà anche i prossimi giorni attraverso una petizione popolare ci racconta tutto in questo primo servizio marco cadedu in tempi di emergenza sanitaria non poteva mancare il dibattito e il sit in di protesta organizzato dalle forze di centro sinistra della provincia di pesaro urbino qui all'ospedale di muraglia sabato 21 novembre capitanate dal sindaco di pesaro matteo ricci sono presenti anche il sindaco di valle foglia il sindaco di gara l'assessore al welfare di fano e il presidente della provincia noi ci batteremo per avere questo ospedale perché siamo stanchi di curarci fuori regione abbiamo già perso tanto tempo nella scelta nelle procedure burocratiche adesso che si sta per partire non si può di nuovo bloccare tutto quindi spero che il presidente acquaroli ascolti la voce di questo territorio stiamo parlando di una provincia importante della seconda la terza città delle marche della prima unione dei comuni delle marche quindi pensare che si possa governare contro questo territorio mi pare molto arduo soltanto da immaginare può riassumere per i nostri ascoltatori dove si recarà la prossima settimana per condurre questa battaglia sicuramente da oggi inizia una battaglia istituzionale nei consigli comunali consiglio provinciale regionale e dall'altra i martirici sarò di nuovo il ministero della salute perché il ministero della salute ha tutto l'interesse affinché queste risorse vengano spese spese velocemente quindi è di certo dalla parte di chi vuole realizzare e non di chi vuole fermare e inoltre sono in attesa della dell'incontro ufficiale con il presidente acquaroli perché penso che passata la campagna elettorale messa da parte la propaganda anche il presidente acquaroli voglia realizzare delle cose importanti durante il suo mandato questo territorio oggi soffre di una mobilità passiva proprio per l'eccellenza e quindi purtroppo deve molti cittadini devono andare fuori regione chiaramente questo ospedale d'eccellenza è a disposizione di tutto il territorio provinciale e sta in un sistema in cui ci deve essere e va rafforzata era previsto anche nel nuovo piano sanitario anche la rete di urgenza emergenza dei presidi dell'entroterra Cagli, Sasso Corvaro, Fossombrone, l'ospedale di Urbino di primo livello, l'ospedale di Pergola e chiaramente anche il protocollo che era stato firmato nel 2018 per Fano e per i servizi previsti al Santa Croce e tutto quello che era previsto nel protocollo questo non è mai stato pensato come un ospedale unico che doveva come dire essere andare a sostituire quindi a chiudere l'ospedale di Urbino, l'ospedale di Pergola e quello di Fano ma è un nuovo ospedale una struttura di secondo livello, di eccellenza dove tutti i cittadini del territorio della provincia di Pesosubino potranno averlo come riferimento per potersi venire a curare. Devo dire che quello che mi sconvolge di più è che anche i consiglieri di questo territorio stanno mettendo in discussione i 120 milioni di euro che la regione Marche aveva destinato, 104 dello Stato e 16 della regione andando a rischiare di perdere una quantità di risorse mai viste in questo territorio e quindi penso che questa cosa sia veramente molto negativa. Quello che dobbiamo fare se il project è uno strumento che non viene più considerato come dire molto a livello come quello più giusto da utilizzare la regione può benissimo mettere gli altri 100 milioni di euro che bastano perché come regione abbiamo veramente dei conti a posto e non abbiamo nessun problema a mettere altri 100 milioni di euro. Anche a noi abitanti delle aree interne ci farebbe sentire più tranquilli avere un ospedale che funziona a Pesosubino. Io in questo momento ho dei problemi a casa in famiglia di salute e sto andando all'ospedale di Ancona alcune cose se fossero state qui a Pesosubino l'avrei fatta a Pesosubino e non starei tutta la settimana a Ancona. Questa cosa secondo me è anche un primo passo per potenziare anche le aree interne, i presidi delle aree interne perché se casca questo castello casca poi tutto. Cioè è vero, dirottiamo questi soldi alle aree interne, ma a quali? Cosa? Come? Cioè non è che c'è un progetto. E la replica al presidio a favore della realizzazione del nuovo ospedale arriva dalle fila del centro-destra regionale. Sentiamo infatti nella prossima intervista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi. La manifestazione di ieri, di sabato, lascia il tempo che trova perché se da un lato è assolutamente legittimo la protesta, il dissenso da parte di alcuni amministratori di cittadini che la pensano diversamente però dall'altro è assolutamente legittimo che si porti avanti una linea, una decisione, una proposta che è già stata avanzata in campagna elettorale e anzi sarebbe assolutamente da rispettare la volontà dei cittadini che hanno votato questa coalizione in maniera molto ampia anche e soprattutto per questo motivo. Quindi benissimo che questa giunta rispetta i patti che ha preso durante la campagna elettorale nel proprio programma elettorale e quindi andiamo avanti spediti su questa linea per cercare di delineare un nuovo piano sanitario. La garanzia della tenuta del sistema sanitario a livello provinciale e soprattutto della garanzia delle strutture per la provincia di Peso Rubino è dettata anche dal fatto che in giunta esistono tre assessori della provincia di Peso Rubino, quattro consiglieri di maggioranza sono della provincia di Peso Rubino. Inoltre la mia presenza anche in Commissione Sanità sarà la garanzia affinché tutto quello che è necessario fare per la provincia di Peso Rubino, sia per le strutture territoriali dell'entroterra che per la costa, magari anche se necessario con la costruzione di un nuovo ospedale verrà sicuramente fatto. Quindi nessun soldo verrà assolutamente perso e verrà garantito comunque sia un diritto costituzionalmente garantito come il diritto alla salute. Sono continuate in questo fine settimana le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sull'osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 novembre sono state controllate rispettivamente 430 e 479 persone, 16 le violazioni totali registrate, 11 il sabato e 5 la domenica. Nel weekend sono state inoltre controllate 499 attività commerciali, 293 nella giornata di sabato e 206 in quella di domenica, con la contestazione di un illecito al titolare di un esercizio. La prefettura di Peso Rubino continua ad invitare i cittadini a proseguire nella puntuale osservanza delle misure di sicurezza, al fine di contenere i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 sull'intero territorio provinciale. E in primo piano ancora la cronaca perché nella tarda serata di sabato si è spento Eugenio Ricci, classe 2000, il giovane era ammalato da tempo di leucemia e la scomparsa prematura avvenuta all'ospedale San Salvatore di Pesaro dopo l'aggravarsi della malattia ha lasciato sgomenti amici e conoscenti del giovane. A darne l'annuncio sui propri canali social è stato lo zio Damiano Bartoccetti, presidente dell'Unione Provinciale delle Proloco. A lui e a tutta la famiglia del giovane Eugenio giuncono quindi le condoglianze di tutta la nostra redazione. I funerali del ragazzo si svolgeranno domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Carlo Borromeo in Vianitti. E ora cambiamo decisamente pagina e torniamo a parlare delle chiusure dei centri commerciali nella fine settimana e delle controversie registrate a Vallefoglia dove da qualche weekend diverse attività sono costrette ad abbassare le saracinesche nonostante gli ingressi indipendenti e gli spazi all'aperto. Sabato c'è stato un incontro tra alcuni titolari di queste realtà insieme al sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e alla consigliera regionale del Partito Democratico, Micaela Vitri. Ce lo racconta in questo prossimo servizio Andrea Sabatini. I commercianti di Vallefoglia si sono riuniti questa mattina qua al centro commerciale Le Centro Vettrine assieme alla consigliera regionale Michela Vitri, a quale ha partecipato poi anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli perché le ultime normative, gli ultimi di PCM, le passagge da zona zalla a zona arancione ha costretto le attività denominate appunto centri commerciali qua a Vallefoglia a rimanere chiusi nel weekend i 15 giorni di sabato e domenica. Una chiusura appunto per la denominazione centro commerciale nonostante le attività come appunto questa qua alle mie spalle dove vedete anche i commercianti sono completamente aperte, entrambe con una propria entrata ed una propria uscita. Un incubo nell'incubo. Noi abbiamo avuto la notizia il venerdì sera, dieci giorni fa mi sembra e il giorno dopo abbiamo dovuto tenere le serrande chiuse. Cioè un negozio come il mio che ha fattura tutto e punta molto sul Natale lavoriamo un anno intero per il Natale, avere una chiusura del genere, creare concorrenza sleale perché i nostri clienti a questo punto vengono spinti da una... ovviamente perché devono comunque comprare hanno il tempo solo il sabato e la domenica, lavoriamo tutti e di conseguenza diventa una perdita per me, una perdita di clientela e una perdita economica di incasso al momento, in quel momento. Siamo sempre più fiduciosi che si possa risolvere, ho organizzato apposta questo incontro chiamando tutti e quattro i centri commerciali che sono stati penalizzati. Noi possiamo lavorare da sport, ci siamo fatti in quattro per inventarci sempre ogni weekend cose nuove, un aperitivo a tema o via dicendo, ma facciamo quello che possiamo fare al massimo più di così non si può fare se facciamo fatica. Qua c'è un caso, direi anomalo rispetto a tutto il resto del territorio regionale a Vallefoglia abbiamo sei centri commerciali, molto simili tra loro di questi quattro devono rimanere chiusi per le norme previste dal DPCM perché considerati centri commerciali, ovvero le attività, quasi 100 attività di genere diverso rimangono chiuse il sabato e la domenica perché hanno la licenza da centro commerciale mentre gli altri due possono lavorare ed essere aperti regolarmente a prescindere appunto dal genere. Il problema è che ancora ad oggi in regione non è stata fatta una modifica alla normativa regionale per cui non vengono distinti parchi e centri commerciali. È indispensabile invece fare questo distingo e fare in modo che chi si trova non in una galleria chiusa come possono essere i perrossini e i percop, ma in un parco commerciale in cui i negozi hanno l'ingresso all'aperto indipendente e quindi sono equiparabili a quelli di un centro storico, di una piazza, possano lavorare. Ora in regione, dopo 15 giorni non avendo avuto ancora una risposta chiara dal Ministero farò in modo che sia lo stesso assessore regionali alle attività produttive, Mirko Carloni e quindi anche tutto il Consiglio ad impegnarsi a capire questa problematica e a fare in modo che al più presto si possa avere una distinzione chiara tra centri commerciali e parchi commerciali e che non dipenda da una semplice licenza, quindi da una distinzione amministrativa, burocratica. Questi nostri quattro centri commerciali sono quattro centri commerciali aperti quindi non hanno un problema di assembramento. Quindi o il Consiglio regionale modifica e interpreta la norma che i centri commerciali aperti come i nostri possono essere aperti il sabato e la domenica mentre i centri commerciali chiusi è giusto che siano chiudi perché creano assembramento oppure modificano la norma nazionale. Io adesso chiamerò anche i quattro proprietari dei centri commerciali che hanno chiesto di avere approvate licenze come centri commerciali se si può modificare anche la presentazione sotto forma di centri commerciali. e quindi stiamo cercando di far di tutto e di più per dare una mano ai commercianti e risolvere questo problema. Ed è stato lanciato ormai da qualche giorno l'appello dell'Avis Comunale di Pesaro per cercare nuovi donatori di plasma iperimmune, soggetti che abbiano sconfitto il virus recentemente e che con le loro donazioni potrebbero aiutare nella cura i pazienti attualmente ricoverati in ospedale. L'intervista è alla presidente dell'Avis Comunale di Pesaro, Lina Rocca. Abbiamo rinnovato proprio in questi giorni l'appello per la ricerca di possibili donatori di plasma iperimmune. Da maggio il centro trasfusionale di Pesaro si sta occupando della raccolta di plasma iperimmune e sono tantissime le persone che hanno telefonato e sono tantissime le persone che si sono recate a donare. Purtroppo però quasi solo la metà di queste persone che hanno donato plasma avevano il plasma iperimmune, ovvero un plasma che aveva un titolo di anticorpi necessario per questa cura. Noi l'Avis stiamo collaborando col centro trasfusionale facendo da tramite con tutte quelle persone che vogliono avere informazioni su come fare per diventare donatore. A Pesaro, nel nostro comune, i donatori attivi siamo a 3.300. Se pensiamo siamo poco più del 3% di tutta la popolazione. Tenendo conto che la popolazione che può donare, ovvero quella che ha un'età compresa dai 18 ai 65 anni, sono quasi la metà, possiamo dire che su 45.000 abitanti, 3.300 sono gli abitanti che si occupano del benessere dei cittadini di tutta la nostra città. I requisiti principali per donare plasma iperimmune sono questi avere un'età tra i 18 e i 60 anni e stare bene di salute. Ovviamente avere contratto il virus ed essere guariti da almeno 14 giorni. Stiamo cercando persone che si sono ammalate nel periodo di fine agosto-settembre in modo tale da avere più possibilità di avere la percentuale di anticorpi richiesta per avere il plasma iperimmune. Purtroppo, per lo stesso motivo di anticorpi, le donne che hanno avuto almeno una volta nella vita una gravidanza o un'interruzione di gravidanza, sono impossibilitate a donare plasma iperimmune. Se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo pensare a un futuro in una maniera un po' diversa, dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi perché essere un donatore di sangue vuol dire anche pensare a noi stessi, ma soprattutto pensare anche al nostro vicino, al nostro amico, al nostro parente, allo sconosciuto, perché un indomani lo sconosciuto possiamo essere noi. Il primo passo da fare è rivolgersi all'Avis del proprio comune. Quasi tutte le Avis oggi hanno la pagina Facebook, sono sul sito o si trova telefonicamente. Se riuscite a contattarci telefonicamente sarebbe la cosa migliore. Se non riuscite lasciate un messaggio con un numero di telefono oppure scriveteci su WhatsApp oppure scriveteci nella nostra pagina, vi contatteremo noi. Le nostre operatrici stanno facendo il possibile per prendere più contatti possibili. Un ringraziamento speciale va al direttore Carlo Pazzaglia, ai suoi dottori e a tutti gli infermieri dello staff del centro trasfusionale che in questo periodo stanno veramente dando il massimo. E apriamo adesso la pagina delle segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV perché proprio una telespettatrice lamenta ritardi sulla raccolta del verde presso la propria abitazione in campagna nella zona di Villa Betti. Spalci o potature si accumulano ormai da diverse settimane e il servizio di raccolta del verde nell'area per un massimo di 3 metri cubi di materiale dovrebbe essere garantito una volta ogni tre mesi. Diverse le sollecitazioni effettuate a marche multiservizi a partire da metà settembre fino ad arrivare ai primi giorni di novembre ma la situazione attualmente è rimasta invariata. In attesa di avere aggiornamenti sulla situazione vi ricordiamo il nostro numero whatsapp 370-366-7210 a cui potete telefonare oppure inviare messaggi di testo, foto e video per segnalare i disagi riscontrati in città. E ora andiamo avanti e continuiamo con le notizie perché Io sono l'altro, storie di incontri e incontri di storie. Questo è infatti il titolo dell'appuntamento sul tema dell'affido familiare in programma per mercoledì 25 novembre alle 20.45 sulla piattaforma Zoom. Durante l'appuntamento si alterneranno testimonianze di accoglienza spontanea e ci sarà anche la testimonianza di una coppia affidataria. Per maggiori informazioni è possibile contattare Massimo Reghi al numero che compare in sovrimpressione. Pesaro risponde all'appello dell'Associazione Italiana Città della Ceramica di cui fa parte aderendo all'iniziativa Scarpette Rosse in Ceramica il progetto pensato per dare visibilità alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre. A Pesaro Scarpette Rosse in Ceramica è promossa dal Comune di Pesaro e Sistema Museo in collaborazione con l'Associazione Percorso Donna. L'appuntamento è alle 11 per un veloce momento simbolico davanti alla sede di Percorso Donna in via di Azz 10 in prossimità della piastrella circolare realizzata da Mirko Bravi per l'Associazione e poi in seguito ci si sposterà nello spazio di Via Rossini 35 dove sono allestite le scarpette realizzate dagli amici della ceramica. E ora parliamo di meteo perché le immagini che stanno scorrendo in sovrimpressione ci raccontano di alcuni danni provocati dal forte vento e dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno interessato il nostro territorio a partire da venerdì per concludersi soltanto nel fine settimana. Dalle immagini vediamo quindi alberi e rami a terra nel quartiere di Monte Granaro ma sono stati anche tanti altri gli interventi dei vigili del fuoco che hanno operato anche a Fano. Il forte vento ha causato qualche conseguenza anche in zona porto dove la mareggiata ha invaso il percorso pedonale con rami, detriti e una grande quantità di schiuma denominata dai biologi muco di mare, fenomeno tipico dell'Adriatico. Queste altre foto invece arrivano dal rifugio del Monte Catria attualmente chiuso per le normative imposte dal DPCM dove questo fine settimana sono caduti i primi fiocchi di neve che hanno imbiancato l'intera area. E come ogni lunedì apriamo la pagina sportiva e per lo sport pesarese quello appena trascorso è stato davvero un bel fine settimana. Tripletta di vittorie infatti per i tal service Carpegna Prosciutto Basket e Vis Pesaro mentre sempre per il calcio l'Alma Juventus Fano è rimasta nuovamente ferma ai box. Vediamo tutto in questo servizio. Il fine settimana dello sport pesarese si conclude con un triplet di vittorie importanti per le squadre protagoniste del match in programma. In ordine cronologico i primi ad esultare sono stati i tifosi giocatori del Little Service che venerdì sera ha battuto per 3 a 2 gli sfidanti della Bernardinello Petrarca Padova. Nonostante gli ospiti abbiano confermato di essere una squadra solida Little Service ha tenuto in mano il palino del gioco per quasi tutta la partita segnando la rete del vantaggio grazie al rigore confezionato da Cuzzolino. Little Service dunque si porta alla vetta della classifica di Serie A con in mente l'inizio della Champions League in programma per sabato prossimo. Performance straordinaria anche per la Carpegna Prosciutto Basket. La squadra dopo lo stop della scorsa settimana dovuto al numero di giocatori risultati positivi al Covid-19 è scesa in campo alla Vitri Frigo Arena per sfidare Reggio Emilia. La non aggiornata di Serie A è andata dunque ai pesaresi che battendo gli avversari con il risultato finale di 84 a 63 si sono portati al terzo posto in classifica. Più che soddisfatto coach Repja. Una reazione a questi ragazzi come un gruppo, una reazione da punto di vista tecnico, una reazione da punto di vista di disponibilità fisica, una reazione di gruppo vero sia in difesa come in attacco e veramente che mi fa molto felice. Sono veramente orgoglioso di essere allenatore di questo gruppo che è stato stasera veramente corto, è un piccolo gruppo ma un gruppo straordinario. Dedichiamo questa vittoria perché è stata estremamente strana e difficile ai nostri tifosi, spero che hanno visto a tv e possano essere orgogliosi come sta la loro squadra sul campo, come si batte per terra, come raddoppiano insieme, come fanno rotazioni, come lottano per ogni palone. Questo è veramente una cosa che ci sta strafelici, che ci fa strafelici. E entusiasmo anche in casa Viss, dove l'allenatore Daniele Di Donato ha potuto festeggiare la prima vittoria sulla panchina biancorossa. 3-2 il risultato finale del match contro il Carpi, nel quale è stata fondamentale la rete segnata dall'ultimo acquisto Vissino, Manuel Di Paola. Mi fa strano ancora adesso pensare che una settimana fa, magari in un periodo brutto come ero, magari il pensiero anche di abbandonare ci sta che ti capiti nella testa. Però anche questo è il calcio, mi sono ritrovato da essere a casa a giocare una partita così importante per 90 minuti e quindi credo che questo sia il coronamento di un piccolo sogno che avevo quando ero a casa. Faccio i complimenti ai ragazzi, anche perché a questa squadra finora da quello che avevo visto mancava un po' di intensità. In questa settimana abbiamo lavorato proprio su questo aspetto e oggi si è visto. È stata una partita importante, una partita che abbiamo voluto a tutti i costi. Non era facile perché poi quando siamo andati il primo tempo dove aver giocato e aver sfiorato il 2-0 siamo andati sotto di un gol, siamo andati 2-1 nell'intervallo. Non era semplice. Invece i ragazzi hanno disputato un secondo tempo importante, hanno messo alle corde il Carpi e meritatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Fermo i box, invece, il Fano, che per la seconda domenica consecutiva ha dovuto saltare la gara in programma visto il numero di giocatori risultati positivi al Covid-19 tra le fiere della Legnago Salus prima e dell'Arezzo poi. Queste le parole di mister Flavio Destro al termine di una partitella di allenamento organizzata e disputata tra gli stessi componenti Granata. Sicuramente dispiace non poter giocare. Dobbiamo cercare di tenere i ritmi alti. ha fatto una partita quasi di 90 minuti. È importante per i ragazzi giocare. Purtroppo non abbiamo potuto la seconda volta. Speriamoci all'ultima. E questo era davvero l'ultimo servizio. Vi ricordo ora la prima serata di Rossini TV perché questa sera alle 21.15 andrà in onda PM School la serie, la puntata zero che racconta appunto la serie dietro le quinte del mondo dello spettacolo, quello che nasce dalla scuola Pianeta Musica di Pesaro del musicista e compositore urbinate Davide Di Gregorio. Questa sera in onda alle 21.15 e poi in replica alle 22.30. Domani sera invece in prima serata un incontro organizzato dall'Associazione Culturale Upupa, Unione Protezione Umana per Ambiente, dal titolo Serve un nuovo ospedale a Muraglia, conversazione con Luca Ceriscioli, Roberto Rossini e Stefano Ridolfi. Domani sera quindi in prima serata questo importante incontro a partire dalle 21.15. E poi l'informazione che torna ovviamente puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV. Grazie.